Il Paradiso, anticipazioni 15-19 gennaio, Matteo preoccupato per Maria, Flora in crisi. Le anteprime di Il Paradisi delle donne, che si sono svolte nella settimana dal 15 al 19 gennaio 2024, mostrano Matteo mentre il suo stilista affronta una crisi personale dopo aver confessato il suo interesse a diventare commercialista. Diventa chiaro che è preoccupato per Maria. Anche Flora attraversa un momento di grande crisi quando si rende conto di essere stata ingannata dall'amico Umberto Guarnieri, che le ha nascosto la verità sul suo coinvolgimento in una nuova operazione fallita che coinvolge Marcello e suo fratello. Maria confida per la prima volta i suoi sentimenti a Matteo e si ritrova in crisi. Matteo è preoccupato per Maria e va a trovarla. La stilista decide di liberarsi da questo peso, ma allo stesso tempo si ritrova ad affrontare una situazione molto spiacevole con il suo fidanzato e fidanzato Vito, senza sapere cosa sta succedendo alle sue spalle. Maria infatti, dopo una notte insonne, ha deciso di non presentarsi al lavoro, suscitando i sospetti di Matteo e Vito. Portelli prende in considerazione la situazione e sente il bisogno di parlare direttamente con la stilista dopo quello che è successo tra loro, quindi pensa di andare a parlare con lei. Flora Crisis e Umberto, anteprima di Ladies Paradise dal 15 al 19 gennaio inoltre, il trailer della sopopera, che durerà fino al 19 gennaio 2024. Mostra Umberto che mette i bastoni tra le ruote al nuovo progetto professionale di Marcello e Matteo, facendolo fallire. Tuttavia, il comandante non dice la verità alla sua compagna, Flora Ravasi, e cerca di tenerle segreti i suoi piani a danno dell'ex compagno della contessa Adelaide. Con il passare dei giorni Flora scopre la verità e non riesce a nascondere la sua delusione. Lo stilista è rimasto sorpreso e ha deciso di rivolgersi a Marta. Non cerca di nascondere a Marta il fatto di essere in pericolo dopo che è stato scoperto l'inganno del suo partner. Matteo non ha rinunciato alla sua stilista Maria Paglisi nelle puntate precedenti della telenovela Matteo aveva dimostrato di non voler rinunciare allo stilista del grande magazzino pronto a conquistarla. Poi si presenta con un regalo di Natale inaspettato che la lascia senza parole. Maria dapprima non volle riceverla, ma poi decise di tenerla, e questa collana suscitò anche i sospetti dell'amico Vito, pronto a conoscere la verità sull'oggetto.